Conti i protagonisti, partito ufficialmente con Davide Aglia in questione 2, con sia 3 per Cristian Gallozzo, con sia 5 per Michael Zurda, con sia 6 per Vazio Bianchi, con sia 7 per Roberto Guasetti, con sia 8 per Gabriele Risoni. Velocissimo, ha preso la testa dell'arca Cristian Gallozzo e con sia 3 che fa la gara a sé e va così per la vittoria comune a 22-21. 22-61, grande piatto.